Dal 14 al 25 aprile non lasciatevi scappare le grandi offerte del supermercato Pamma d'Avola. Risparmierete acquistando tantissimi prodotti. Nutella da 750 grammi a 3,19 euro. Columba mele gatti tradizionale da 750 grammi a 2,95 euro. Uovo di Pasqua Duca da 500 grammi a 3,90 euro. Uova di Pasqua Hello Kitty da 350 grammi a 13,90 euro. Agnellone a 8,90 euro al chilo. Pasta Rummo da 500 grammi a 50 centesimi. Birra Splugen da 33 centilitri per 3 a 1,35 euro. Latte Stella parzialmente scremato in bottiglia da 1 litro a 89 centesimi. Lasagne Parilla da 500 grammi a 1,49 euro. E da noi troverete tante altre offerte. Il supermercato Pamma dispone di un ampio parcheggio e offre alla propria clientela una vasta scelta e prezzi imbattibili nei reparti ortofrutta, macelleria, salumeria e latticini. Ci trovate in contrada a Borgellusa, ad Avola, tutti i giorni con un radio continuato dalle 8,30 alle 20,30 e domenica dalle 9 alle 13. Più Pam, più risparmio. In occasione della Pasqua il supermercato Pamma augura a tutti voi buone feste!